Il comune di Laterina non andrà alle elezioni nel 2023 ma si voterà nel 2024. Alla data stabilita per il turno elettorale, ossia il 14 e il 15 maggio, non sono infatti passati 5 anni di mandato per la sindaca Simona Neri. Dunque in provincia di Arezzo saranno solo due i comuni dove i cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale, Capolona e Caprese Michelangelo. Tutto nasce dal posticipo del voto di 5 anni fa nel municipio nato dalla fusione di Laterina e Pergine per la morte di un candidato sindaco Giovanni Lari a due giorni dall'apertura dei seggi. Si andò dunque al voto non in primavera ma il 29 luglio. Questo è per legge il motivo per ritenere non scaduto il consiglio comunale, quindi la proroga di un anno. Simona Neri vinse con una lista che superò quella di centrodestra con il candidato Stefano Bellezza e quella di sinistra guidata invece da Rossella Lattanzi resterà sindaca sino al 2024.